figlia mia ricordati una cosa nella vita farai nove cose bene e una sola male ma verrai ricordata più per quell'unica che avrai fatto male piuttosto che per le nove fatte bene studia studia e anche se non potrai fare tutto giusto non ti disperare e rammenta per non abbatterti che le nove cose giuste che avrai fatto dovrai ricordarle tu a te stessa saranno il tuo auto incoraggiamento per proseguire a testa alta sempre e comunque grazie a tutti